Avevano brutalmente aggredito un giovane in pieno centro a Sulmona nella notte del 14 aprile scorso e oggi, a distanza di 15 giorni dal fatto, la squadra anticrimine della polizia di Sulmona ha individuato e denunciato i tre responsabili. Si tratta di MF, 18 anni di Sulmona, e due pregiudicati, ZM e CSD, queste le loro iniziali, di nazionalità, rispettivamente albanese e rumena, di 23 anni, residenti a Prato-la-Peligna. Ad aiutare gli uomini di Via Sallussio, le telecamere di videosorveglianza del Comune e le testimonianze di diverse persone presenti la sera del pestaggio, prove che hanno consentito agli agenti di individuare e denunciare i tre responsabili dell'aggressione alla Procura della Repubblica di Sulmona e che dovranno ora rispondere del reato di lesioni personali grave in concorso. Ricostruiamo i fatti. La sera del 14 aprile, nei pressi di un noto locale in Piazza 20 Settembre a Sulmona, CV, 22 anni, era stato aggredito in maniera violenta e brutale da tre coetanei. Il pretesto tra i più banali al mondo. Il ragazzo e la sua comitiva erano accusati di aver rovesciato una bevanda sui giovani in questione. Per questo, mentre si trovavano nella vicina piazza 20 Settembre, hanno aggredito con calci e pugni il ragazzo. Anche un altro giovane, amico della vittima, è stato picchiato mentre cercava con gli altri amici di sottrarre il giovane dalla furia dei tre aggressori, che, a seguito del soccorso prestato dalla comitiva, si sono di fatto allontanati. La giovane vittima ha riportato gravi lesioni al volto, tanto da dover essere trasferito al reparto di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, con una prognosi di 40 giorni, mentre l'amico che era accorso in suo aiuto ha riportato lesioni, giudicate e guaribili dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, in due giorni.